Ciao, sono Dario di Alternativa Linux. Smartphone e tablet con Linux. Vediamo il meglio che si trova in rete quanto a possibilità di alternative ad Android e iOS, ma ci sono ancora limiti, oltre benefici, per una scelta davvero alternativa. Lo dico subito, non si tratta di recensioni né di prodotti che sto consigliando di acquistare perché non li ho provati personalmente, ma serve un'altra premessa. Le approfondite ricerche web che ho fatto su smartphone e tablet Linux includono dispositivi come Chromebook o basati in qualche modo su Android. Ora, è vero che i sistemi operativi di Google derivano da Linux, ma definirli dispositivi Linux è improprio. Esemplificando molto, non puoi certo installare GIMP o LibreOffice su Android, né far girare applicazioni Android in Linux senza un cosiddetto software di emulazione. Nei dispositivi Android o basati su Android non troviamo un kernel completo o cosiddetto mainline, cioè ufficiale e proveniente da Linux Torvalds. Troviamo piuttosto kernel definiti downstream. In pratica viene presa una precisa versione del kernel principale, rilasciata più o meno nel passato. Viene completamente modificata e adattata con driver, talvolta nemmeno open source. E questi dispositivi raramente supportano il kernel mainline. Nei dispositivi basati su kernel mainline si potranno installare applicazioni tipiche di Linux. Ma non applicazioni come Facebook, Instagram o Google Maps se non sono disponibili per quel sistema operativo. I dispositivi basati su Android o Chrome OS per contro non possono ancora eseguire applicazioni Linux per desktop. Di cosa sia un kernel ho parlato a proposito di come orientarsi tra le distribuzioni Linux e nel mio ebook Un pinguino sulla scrivania. Ma perché cercare alternativi ai sistemi operativi più diffusi su smartphone e tablet? Per essere alternativi tutti i costi o c'è altro? Telefoni e tablet sono quasi sempre bloccati dai produttori a livello di firmware e di istruzioni di avvio. Se li sblocchi per installare Lineage OS o Post Market OS e benché complicato è spesso possibile, ne invalidi la garanzia. Non puoi estrarre la batteria e non si spengono davvero perché questa si esaurisce in pochi giorni anche da spento e in modalità aereo. Spesso sono progettati per rendere impossibili o quasi le riparazioni. Non puoi evitare che algoritmi di intelligenza artificiale imparino tutto di te, non puoi disattivare microfono o telecamere quando non le usi. E questo non è il massimo visto che non puoi evitare che applicazioni che uno stai usando siano comunque attive anche se non serve. Hai un bel da fare se vuoi impedire che i tuoi dati finiscano nel cloud chissà dove. Insomma, maggiore libertà di scelta e maggiore privacy, oltre il desiderio di non far parte del folle meccanismo dello spreco che costringe a cambiare oggetti funzionanti, sono i punti cardine per scelte alternative. Ma non tutti hanno sensibilità verso questi aspetti. Impossibile desiderare libertà se non te ne senti in qualche modo privato. Molti non conoscono lo scandalo Cambridge Analytica o i meccanismi di social network per farti interagire ad ogni costo. Mi fermo qui, ma suggerisco due documentari su questi temi, che credo andrebbero mostrati nelle scuole. The Great Hack e The Social Dilemma. Oggi vorrei parlare delle possibilità che utenti non smanettoni hanno di procurarsi nuovi dispositivi con un sistema operativo GNU Linux alternativo ad Android e iOS, preinstallato e preconfigurato. Vediamo cosa ho trovato. Pine64 si definisce una piattaforma comunitaria. La società che sviluppa hardware di PC, tablet e smartphone coinvolge la comunità in ogni fase di realizzazione del dispositivo. Dalle caratteristiche hardware allo sviluppo del software, dalla gestione del sito web, delle ricche pagine di documentazione del wiki alle attività social. Chiunque può partecipare attivamente contribuendo con idee, suggerimenti e richieste di caratteristiche aggiuntive e migliorie. PinePhone Pro Explorer Edition è la versione di fascia più alta di un precedente modello base chiamato semplicemente PinePhone. PinePhone Beta Edition, rilasciato a marzo 2021, è assai economico, meno di 150 euro. Ed è collaudato. Le caratteristiche sono minime, ma più che adeguate per gli standard Linux. L'esperienza d'uso è giudicata infatti fluida dai suoi utenti. Anche perché non si tratta di far girare Android nei relativi mastodontici applicativi. Il nuovo PinePhone Pro è dotato di un processore più potente e veloce e, a differenza del predecessore, gestisce SMS. La caratteristica più importante degli smartphone Pine64 è anzitutto quella di poter estrarre e sostituire la batteria. Ma questo è solo l'inizio perché proprio all'interno del vano batteria si trovano diversi interruttori fisici. Questi consentono di attivare e disattivare singolarmente a livello hardware fotocamera, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, microfono, connessioni dati e altoparlanti e jack audio. Possibilità interessanti per innalzare al massimo privacy e sicurezza, eliminando alla base effetti indesiderati di software in grado di raccogliere informazioni personali. Spegni un interruttore e in pratica stacchi fisicamente il componente. PinePhone e PinePhone Pro sono rilasciati con Mangiaro Linux, con interfaccia KDE Plasma Mobile. Ma le caratteristiche hardware e la possibilità di eseguire boot da scheda di memoria consentono scelte differenti quanto a sistemi operativi. Oltre Mangiaro, Gentoo e Mobian, la versione mobile di Debian, altre distribuzioni per le architetture ARM tipiche di dispositivi mobili sono ufficialmente sopportate. Puoi fartene un'idea dalla pagina web dei rilasci software ufficiali. Pine64 tiene a specificare che il nuovo PinePhone Pro è ancora riservato ad una nicchia di utenti precoci e sviluppatori e ci vorrà tempo per dotarlo di tutte le caratteristiche già disponibili per PinePhone Beta Edition. Si deve anche ricordare che non troverai Play Store e App Android e la scelta di applicativi potrebbe essere ancora più limitata. PinePhone Pro è attualmente acquistabile a 399 dollari, oltre 30 dollari di spedizione verso l'Italia. Il primo smartphone di Purism, Librem 5, è simile ad un PinePhone Pro dopato. Il dispositivo consente infatti la rimozione e sostituzione della batteria ed è dotato di interruttori hardware posti ai lati della scocca per disattivare microfono, fotocamere e connettività. Traducendo dalla pagina ufficiale, Librem 5 non raccoglierà i tuoi dati personali allo scopo di trarne guadagni, non ti imprigionerà in un ecosistema fatto per controllarti e non ti richiederà informazioni sul conto corrente solo per scaricare un'app da un App Store. Libertà, privacy e sicurezza sono i punti chiave dello scopo sociale di Librem, che con orgoglio afferma di distinguersi dalle aziende che hanno come scopo la massimizzazione del profitto. Purism è già apprezzata da tempo per i suoi laptop basati su open source e assai rispettosi della privacy. Addirittura i chip Wi-Fi, Bluetooth e modem sono indipendenti e fisicamente rimovibili dalla scheda madre. Insomma, una modularità eccezionale. Librem 5 è rilasciato con PureOS, un sistema operativo definito libero, etico e open source, non basato su Android né iOS ma su Debian. Può essere scaricato dal sito ufficiale ed installato anche su computer per una reale convergenza PC mobile. Purism non impone certo di tenere PureOS nel dispositivo perché può installare altri sistemi operativi GNU Linux adeguati a schermi touch. Sicuramente si pagano modularità e la particolare costruzione della scheda madre, ma grazie agli aggiornamenti continui e alla possibilità di sostituire la batteria, la vita di un Librem dovrebbe certamente essere più lunga di qualunque altro smartphone progettato per essere sostituito dopo un paio di anni. Purtroppo, al momento, Purism, a causa della perdurante carenza di microchip, annuncia che la spedizione potrebbe richiedere 52 settimane, specie per i mercati differenti da quello americano. La situazione non è incoraggiante e non vorrei si traducesse in un disastro a livello di marketing. Il prezzo di listino di Purism Librem 5 è di 1299 dollari e le caratteristiche di medio livello, 3 GB di RAM, una scheda grafica per rendering 3D fluid. Poi sensore di impronte digitali, fotocamere da 13 e 5 megapixel, un vetro robusto. Trovi tutte le specifiche nella pagina ufficiale. Pro One X è uno smartphone con caratteristiche di alto livello e una tastiera QWERTY fisica. Il nuovo modello è stato realizzato assieme al team XDA che gli smanettoni di smartphone e tablet conoscono. A differenza della quasi totalità dei dispositivi sul mercato, il bootloader è sbloccato di fabbrica. In pratica, normalmente non puoi avviare altro che il sistema operativo previsto dai produttori. Procedure più o meno complesse per lo sblocco, anche se invalidano la garanzia, consentono di installare sistemi operativi differenti e compatibili con il dispositivo, come Lineage OS. Ciò consente spesso maggiore controllo sui propri dati personali e di allungarne la vita, perché aggiornamenti di sicurezza e di sistema sono garantiti ben oltre il ciclo di vita previsto dal produttore. Ebbene, su FX Tech Pro 1X trovi Lineage OS preinstallato e pronto all'uso, novità assoluta nel mercato consumer. Ma è scelta tra ulteriori sistemi operativi. Più controllo sui dati da condividere con le applicazioni, più sicurezza, più privacy. La verità è che normalmente l'utente non ha molta scelta sul software del suo smartphone, dicono i programmatori nel videopromo di Pro 1X. Come noi, forse sei stanco di essere costretto a condividere la cronologia dei tuoi spostamenti o di avere app nel telefono che ascoltano perennemente le tue conversazioni e tracciano qualunque cosa tu faccia. Pro 1X è infatti equipaggiato con due dei sistemi operativi mobili più aperti e liberi sul mercato, Lineage OS e UbiPorts, precedentemente conosciuto come Ubuntu Touch. Lineage OS restituisce l'esperienza d'uso identica a quella di Android da molti apprezzata, ma con un controllo assai vasto delle possibilità di limitare la condivisione di dati personali con le app installate. Ma puoi anche configurare ed utilizzare Pro 1X con la versione ufficiale di Android. Le caratteristiche tecniche, dicevo, sono di eccellenza anche se la batteria mi farebbe pensare che l'autonomia di carica sia una nota dolente. Puoi verificare le specifiche nella pagina ufficiale di Pro 1X. Pro 1X è preordinabile a 684 euro o 741 a seconda della quantità di RAM e memoria interna. Le spese di spedizione sono incluse per l'Italia. Successore del noto Cosmo Communicator, il nuovo dispositivo di punta della società britannica Planet Computers Astro Slide 5G richiama l'aspetto del primo vero smartphone della storia, il Nokia Communicator 9000 degli anni 90. Una tastiera meccanica completa e retroilluminata con 5 livelli di illuminazione prevede tasti funzione programmabili dall'utente. Un dispositivo quindi assai orientato alla scrittura in mobilità in meno di 17 cm. Il resistente schermo curvo interno da 6.4 pollici è associato ad un secondo display esterno da circa 2 pollici che consente di verificare notifiche e altre informazioni senza aprirlo. La fotocamera posteriore da 48 megapixel è basata su sensori Sony, 8 GB di RAM e 128 di memoria interna e due porte USB tipo C con funzionalità video. Astro Slide 5G è al momento rilasciato con Android 11 ma è pianificato il supporto per poter installare alternativamente Sailfish, Debian e Kali Linux anche in multiboot. Purtroppo gli altri dispositivi di Planet Computers, di livello inferiore ma più economici, tra cui Cosmo e i Gemini PDA, non sempre sono disponibili con tastiera italiana. Il prezzo è di 1.038 euro, escluse spese di spedizione. Il dispositivo è già ordinabile anche se le consegne partiranno dal 22 aprile 2022. La società tedesca Volla ha da poco immesso sul mercato Volla Phone X, versione rinnovata di Volla Phone commercializzato nel 2020. Il nuovo modello non differisce dal precedente quanto a performance ma solo per maggiore autonomia della batteria ed una scocca più robusta ed impermeabile. Volla Phone non ha un supporto per il kernel Linux completo ma viene fornito con Volla OS, una versione modificata di Android dichiarata Google Free. Tutte le applicazioni principali del sistema operativo, come quella che consente di effettuare chiamate o la rubrica, sono state rimpiazzate da versioni interamente riscritte e totalmente open source. Senza alcuna dipendenza da Google, dai Play Services, dalla necessità di avere un account. Niente di ciò che fai viene riversato nel cloud e rimane anonimo. Il dato più importante che riguarda i dispositivi Volla è la partnership con UbiPorts, il team che si è preso carico di portare avanti il progetto già noto come Ubuntu Touch. C'è quindi attenzione speciale alla privacy ed in generale alla libertà di scelta. UbiPorts può essere scelto come sistema operativo in alternativa a Volla OS. Il design dei dispositivi appare assai curato. Le caratteristiche tecniche dovrebbero garantire buona velocità e reattività del dispositivo. Fotocamere Sony, sensore d'impronte, memoria di 64 GB espandibile con schede fino a 512 GB sono le caratteristiche di questi telefoni interamente assemblati in Europa. Volla Phone e Volla Phone X sono in vendita rispettivamente a 359 e 449 euro. Sostenibile, durevole, equo. Così è sintetizzato il carattere distintivo del nuovo modello di Fairphone 4 5G. Malgrado sia rilasciato con Android 11 e quindi non alternativo a livello software, potrebbe sembrare fuori luogo. A parte il fatto che puoi comunque installarci in Lineage OS, è molto alternativo per i principi di progettazione, per il lungo ciclo di vita previsto e per la semplicità di ripararlo e sostituire o aggiornare parti difettose. 5 anni di garanzia, materiali riciclati e riciclabili in un misto di alluminio provenienti da zone senza conflitti e plastica interamente riciclata che dicono essere assai morbida e gradevole al tatto. Neutrale ai rifiuti elettronici, cioè per ogni telefono venduto viene riciclata la stessa quantità di rifiuti elettronici. Nessun pezzo è incollato, solo una quindicina di viti in totale, riparabile in autonomia con un cacciavite standard grazie alla disponibilità di parti di ricambio. Questo aspetto gli vale un voto di 10 su 10, perfezione assoluta, da parte dell'autorevole del sito web iFixit che illustra proprio le possibilità di riparare dispositivi elettronici. Nella pagina ufficiale di Fairphone 4, in italiano, si legge stiamo lavorando per integrare cobalto e litio equi nelle nostre batterie e siamo l'unico produttore di smartphone che si avvale di oro fair trade nella nostra catena di approvvigionamento. Niente male, vero? Una vera sfida all'industria per la produzione dei moderni smartphone. La vera innovazione dovrebbe risolvere i problemi e non crearne di nuovi. Uno schermo full HD da 6.3 pollici, CPU con 8 core, 6 o 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna, batteria removibile, sensore d'impronte, fotocamere da 48 e 25 megapixel, con registrazione video 4K. Nella pagina ufficiale trovi tutte le specifiche tecniche di Fairphone 4. Puoi anche scegliere cosa vuoi venga incluso nella confezione. Niente sprechi o costi inutili. Al momento il prezzo di listino di Fairphone 4 è di 579 euro, escluse le spese di spedizione, e i tempi di consegna sfiorano i 30 giorni. Ma puoi optare per i modelli 3 e 3 più di Fairphone, più accessibili a livello di prezzo. Le caratteristiche tecniche sono lievemente inferiori ma non cambiano approccio. La pechinese Jing Ling Tech ha realizzato un sistema operativo destinato specificamente al tablet Jing Pad A1. Si tratta di un tablet da 11 pollici con un'eccellente qualità costruttiva, di materiali e caratteristiche tecniche. L'interfaccia grafica di Jing OS ricorda un po' quella di Deepin OS e iOS. Il sistema operativo è basato su Ubuntu, ma nelle notifiche emergono tracce dell'ambiente desktop Plasma del team KDE. Alcune applicazioni di base sono open source ed è presente un apposito store di applicazioni un po' misero di scelta, ma possono essere usati comandi apt da terminale per installare altri programmi dai repository di Jing OS. Una tastiera magnetica che consente di utilizzarlo anche come laptop è venduta separatamente. Ma non è tutto oro ciò che brilla a quanto pare. Né il dispositivo né la tastiera in effetti funzionano ancora come previsto, perché lo sviluppo del software sarebbe tuttora in corso. Buona parte dei programmi previsti per Jing Pad sono proprietarie non open source. Non sono rilasciati i sorgenti dei driver proprietari a quanto pare. Emergono possibili limiti di progettazione, una gestione caotica e discutibile dello sviluppo software e censure nei commenti e nelle informazioni pubblicate. Ho consultato diverse recensioni approfondite del prodotto, ma le poche chiaramente imparziali evidenziano limiti non da poco. Un kernel Linux completo ma obsoleto, non modificabile e programmi non aggiornabili con evidenti limiti di sicurezza. Tra questa c'è quella in inglese dell'autorevole sito web Fossomint. Ma la recensione, ovviamente in italiano, di Jing Pad A1, realizzata da Morro Linux, è illuminante e dettagliatissima. Chiunque fosse interessato all'acquisto di questo tablet dovrebbe vederla prima dell'acquisto. Va pure detto che forse a causa delle pressioni o per i dubbi sul futuro sviluppo software, Jing Ling ha sbloccato il bootloader del tablet ed ha rilasciato i sorgenti della propria ROM Android. Questo potrebbe significare almeno maggiori possibilità di farvi girare di differenti sistemi operativi. L'ultimo prezzo di listino noto per Jing Pad A1 è di 699 dollari. Ma non è bello, alla data di pubblicazione del mio video, cliccare su Compra ora nella pagina ufficiale e scoprire che il negozio per acquistarlo non è attivo. Pine64, già citata a proposito degli smartphone open source PinePhone, ha immesso sul mercato altri interessanti prodotti. Tra questi PineTab, basato sulla medesima architettura ARM64 dell'apprezzato notebook Pinebook. Il processore quad-core, 2 GB di RAM, 64 di memoria interna e una tastiera con trackpad opzionale, consentono di trasformarlo effettivamente in un piccolo portatile Linux dotato di funzionalità touch. PineTab è rilasciato con UbiPorts preinstallato, supporta il kernel Linux mainline, cioè completo ed ufficiali ed è quindi in grado di eseguire al meglio numerose distribuzioni GNU Linux oltre a BSD e Android. La possibilità di avvio da scheda microSD semplifica certo la vita anche nei casi di utilizzo con un sistema operativo installato ed altri avviabili anche solo in modalità live. Un'uscita video consente di collegare PineTab ad un monitor esterno e sono previsti accessori per dotarlo di modem dati 4G o espandere la memoria con un adattatore opzionale per SSD. Pine64 è assai onesta con la propria utenza e insiste sul fatto che, trattandosi di una piattaforma open source, il processo di sviluppo è in continua evoluzione e tutt'altro che completo, ma rappresenta una grande opportunità per gli utenti di parteciparvi attivamente determinandone il destino. Un disclaimer nella scheda tecnica ufficiale di PineTab recita infatti Si noti che il sistema operativo è ancora in fase di sviluppo e anche se tutte le funzionalità più importanti sono già assicurate, alcuni aspetti sono ancora in lavorazione. PineTab e la versione già dotata di tastiera hanno un prezzo di listino rispettivamente di 99 e 119 dollari. Purtroppo però Pine64, visto il mercato di nicchia e i relativi rischi, è riuscita di mettere sul mercato finora solo quantitativi limitati dei propri tablet e notebook, e le scorte dei prodotti sono esaurite. C'è da sperare che il successo consenta a Pine64 di raggiungere in tempi brevi fette di mercato sempre più ampie. CutiePie Tablet è una novità interessante in arrivo per l'estate 2022. Un nuovo concetto basato su Raspberry Pi, la scheda madre minima dotata di hardware con driver interamente open source, per far sbizzarrire creativi elettronici ma fornire anche soluzioni pronte all'uso a meno esperti. CutiePie è anzitutto una scheda madre dotata di quad-core, 2GB di RAM, Bluetooth 5, Wi-Fi, una porta dati USB e un'altra tipo-C per la ricarica. Uscite audio e video, microfono, lettore di microSD da usare come memoria interna e pulsante di alimentazione. A questi componenti modulari il Raspberry Pi viene aggiunta una scocca che integra uno schermo touchscreen da 8 pollici, una batteria con lettura del livello di carica ed una fotocamera da 5 megapixel. Il sistema operativo è quello Raspberry Pi OS ed è accompagnato da un terminale shell appositamente realizzato. Molte app sono preinstallate. In attesa dello sviluppo già pianificato per la compatibilità con la versione desktop di Raspberry Pi OS più completa e relativo catalogo di applicazioni. Raspberry Pi OS, malgrado sia nato come sistema operativo basato su un kernel modificato, si sta sempre più adeguando agli standard del kernel ufficiale o mainline. Ed è già possibile installare e compilare un kernel ufficiale compatibile con le architetture ARM64 tipiche dei dispositivi mobili più diffusi. Qtpy Tablet è un vero esempio di tablet Linux completamente open source ed è ordinabile a 229 dollari e circa 33 di spedizione per l'Italia. Ma le prime consegne sono previste a partire da giugno 2022. Raspad 3 è un concetto simile a quello di Qtpy Tablet, anche se non ufficiale, ma della startup SunFounder che si autofinanzia anche con raccolte di fondi online. Raspad è infatti un tablet minimo, basato su Raspberry Pi 4 e relativo OS. È adatto all'uso con programmi educativi e di sviluppo software e hardware. Rispetto a Qtpy è dotato di uno schermo touchscreen da 10.1 pollici, di tre porte USB 3, scheda di rete LAN, uscita HDMI, bottoni per il controllo del volume e indicatore luminoso del livello di carica. Il case è disegnato per ospitare comodamente i moduli e per un confortevole uso da scrivania. Si tratta di un dispositivo convergente in piena regola, cioè colleghi mouse, tastiera e monitor e lo usi anche come mini PC. Attualmente Raspad 3 è in vendita a 349$, completo di modulo da 2GB di RAM e scheda microSD da 32GB. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo per la consegna in tutto il mondo. Sono anche previsti accessori e sensori che consentono di avvicinarsi alla realizzazione di progetti hardware e software il cui limite è solo la fantasia. La varietà di dispositivi mobili basati su Linux è in continuo aumento, ma il livello di maturità delle soluzioni forse non consente ad un utente medio di rimpiazzare soluzioni commerciali che sono ancora più affidabili per uso quotidiano. Se non hai familiarità con il terminale o ti aspetti di installare applicazioni mobili, non prendere uno di questi dispositivi come strumento di lavoro. Spesso si trovano in una fase precoce rispetto ad altri ecosistemi mobili. I loro utenti target sono esperti Linux e potrebbero restarlo ancora. Valuta il supporto per il kernel mainline e la comunità che sta intorno ad un progetto perché possono dare un'idea del futuro che ci si possa aspettare. Anche la disponibilità di uscite video, che sono supportate in modo nativo da Linux, possono essere indice di quella che è chiamata convergenza, ovvero attacca il dispositivo ad un monitor, collega un kit, tastiere, mouse, Bluetooth o USB e puoi adoperarli come PC Linux in piena regola. Per oggi ho finito, ma se hai già comprato uno di questi dispositivi, lasciando un commento farei sicuramente bene a tutti. Ma io sono contento se lasci un commento in ogni caso. Grazie per il tuo tempo e a presto. Ciao! Grazie per la visione!